Ciao ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Maglus, oggi siamo qui su Grounded naturalmente questo è il mio video, questo è il mio video, un bel commento, un bel mi piace quando ho visto la locandina, non so per quale motivo, ma ho pensato al film Tesoro, mi sono ristritti i ragazzi quando poi ho letto qualche recensione e ho visto che trattava di un ragazzino che si era rimpicciolito e si trovava nel giardino di propria casa, nella propria casa e doveva combattere contro insetti e situazioni particolari, mi sono detto no, lo devo provare assolutamente proviamo il gioco è completamente in inglese, però non credo che dovremmo avere problemi, speriamo il volume è sempre un po' altino, la musica poi è anche un po' anni 80 vabbè facciamo single player vai no, non continuiamo, facciamo un nuovo gioco allora, penso che sia il livello di difficoltà, possiamo scegliere sia Max, Willow, Pete ops, allora, Pete personalmente, no no, mi piace più Max, però anche Willow, c'è una bella maglietta posso anche vedere come stai dietro, no? non credo che cambi molto, More Select, ma io andrei con Max, Max Power hey, nice to meet you, the name is Max, Maxwell Smalls no Pete? my name is Peter ah, Peter ok, allora, va bene così prendiamo Pete, Pete Pete, lo chiameremo Pete, va bene? va bene, Pete, Pete va bene momento soltanto perché penso se non mi vedete una mazza, eh, aspettate ok allora penso che così dovreste vedere un po' meglio perché ho alzato un po' l'inosità allora così corriamo così ci abbassiamo perfetto è in prima persona, eh ok mamma e papà non saranno felici con questo beh, Pete tu sempre volevi andare ad un'avventura porca miseria però è fatto benissimo, eh perchevo wow, guarda il sizeo di questo Chunky Chubs league approvato baseball è il sizeo di una d***a casa ho preso una pietra? si respiro, ok quella pietra penso che la potrò anche lanciare ma ne tengo un'altra, penso, eh ok, due pietre colpisco, perfetto un ramoscello allora, mi dice di andare qui? ah, ok, quindi qua forse potrei realizzare qualcosa craftare, perfetto quindi abbiamo che roba è? corteccia, penso allora con una pietra e questa no, non posso fare niente momento che qua andiamo già un po' in difficoltà dobbiamo capire se riesco a capire allora, inventario questo è quello che abbiamo questo è un ramoscello e due pietre ma io non credo che possiamo fare questo ok, no qua non posso ah, vedi questo è questo che posso ah, perfetto quindi questo per questo mi dà questo roll speed che sembra tipo proprio per mangiare penso si, è tipo un un, come si chiama una sorta di sono formiche orca miseria sono formiche è una mela questa orca paletta sono enormi questo gioco è fantastico si, ho capito che vado di qua ma siamo amiche? non credo ma siamo attaccati dalle formiche questo appunto siamo già morti fantastico allora devo evitare allora recuperiamo anche subito a questo punto io provo a evitarlo perché la formica non è aggressiva apparentemente si, si, si prendi tutto si ok quindi ho recuperato tutto evitiamo la formica dai perché già siamo morti già ho capito che non è tanto cosa ci attaccano in ogni dove aspetta qua c'è qualcosa ne prendiamo e poi in base oh questa è una tenda ah si ok si ho capito in pratica ricompare un'altra volta al posto dove siamo morti e possiamo recuperare tutta la roba quella che ho capito si pare strano che ci sia una base qua dentro così non ho capito a che serve tre ce sta analizzando continuiamo ok questo è analizzato così ci fa capire che roba è magari ci permetti poi forse di realizzare qualche cosa la cosa essenziale sarebbe tipo realizzare no questo è già secco perfetto stringe il segnale non so cosa sia sembra tipo uno stabilimento dove quello che non ho capito in basso a sinistra che roba è o aspetta forse ho capito acqua e cibo penso di sì per forza è un analizzatore non possiamo realizzare niente allora questa è la mappa ok quest dobbiamo investigare vabbè fa niente questa che roba è è un monitor ah ok penso che sia quello che ci serve per la stamina ok allora craftare vorrei capire se riusciamo a fare qualcosa ma no ci manca ah forse ho capito analizzando il prodotto ci dà la possibilità di poter per esempio qui mi manca planter fever non possiamo ancora realizzare niente devo capire magari prendendo un po' di roba se riusciamo a realizzare qualche altra cosa allora cari formiche siamo amiche prima mi avete attaccato volontariamente questa sembra piccola ciao 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 ecco il pc ah mi devo pure riposare aspetta aspetta ok ok dove sta quella mannaccia l'hanno arrivati tutte quante maledetta aspetta porca la paletta porca porca la paletta ma perché siete amiche no queste combattono sempre aspetta eh mannaccia non riesco a colpirla così vada perché siete parca paletta uno contro uno riuscirei a batterla ma due contro uno è difficile andiamoci a ripiare la roba dai allora recuperato vediamo se forse me dovrei dovrei anche mangiare qualcosa che è quello allora miei care formiche sono proprio bastardo dentro oh aspetta questa è colpeccia però eh perché noto con piacere che io le attacco in continuazione e voi obiettivamente siete carine e coccolose siamo infami però che roba è questo è un scaravaggio ve lo mangiate voi ve lo mangiate che schifo no 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 ma questo mi attacca è una ape no ma è una ape è strana che roba è favoloso sto gioco che roba è sto gioco oh sembra un chip qua prendiamo qualche scossa sembra una cosa di un computer un bullone sì dai è stupendo questo gioco è favoloso usciamo dai dobbiamo raccogliere qualcosa da mangiare secondo me che è successo? che è stato? niente è possibile che troviamo la sua piante tra un po' mi divento erbivoro 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 allora qua c'è strano qua non è che lo riesco a rompere no no aspetta che forse questa la riusciamo a mangiare no allora ho raccolto secondo me magari qualcosa che ci permette di grattare qualcosa siamo ancora ai cervi secondo me dove? stanno andando avanti ma però dice di investigare la 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 macchina misteriosa e allora c'è qualcosa qua dentro aspettate sì riesco a giare le manopole uh aspetta qua target ok no ho sbloccato o porca che schifo ma fai pure schifo perché te ne vai? scusa perché non te ne vai? vado a fare un giro che vuoi? mi stai azzeccato da tre ore vicino perché non te ne vai? che schifo davvero le persone che fossero un insetto veramente aspetta un momento ma è vibrazione oh c'è porca miseria quanto ti schifo te ne vai allora uno l'ho attivato non penso che devo allora questo è soltanto attivato trovo acqua sì target attivo però qua non mi fa attivare niente e anche questo prova a scendere dai oh ma è rotto è stato da tre ore qua vicino vediamo se riesco questo si è attivato vediamo di non bruciare no non credo che sia dobbiamo sblocchiare il coso laser non capisco una mazza eh questo sembra attivo ma non ma vuoi finire di attaccarmi vediamo se riesco trova acqua ok mo devo trovare l'acqua aspetta questo è un città percorrere ah se lo devo fare il ponte no però qua fa sì tipo contatto no non ho niente oh sono caduto mo che forse posso disattivare ancora no no vabbè secondo me ci manca qualcosa ahhh quello del laser che sta colpendo e sta sciogliendo vabbè dobbiamo sbloccare questo questo coso laser vediamo di trovare l'acqua e trovare l'acqua allora mappa dove sta ok questo è il sito sito perfetto devo andare di qua prendi prendi perché non vorrei che poi magari ci serviano come il pane ah vedete è sempre meglio questo sembra diverso dagli altri eh sì non trovo però ops dai questo sta solo penso gra aspetta non è che forse riesco adesso a fare qualcosa no qua nemmeno però aspetta forse se lo ammazzo questo ok sono bloccato dove stai eh dai hai fatto ammazzare almeno tu ho preso oh sento dei rumori sta porca di quella misera porca di quella misera oh oh sono in trappola maledetto maledetto oh mamma mia oh porca ok mi sono andati a prendere lo zaino eh sì prendi tutto vediamo se riesco ancora a non fare niente allora eh si chiede sì no qua non posso fare ancora niente penso questa è una torcia no questa è una fune allora momento soltanto momento eh nell'inventario che cosa ah vedi adesso ho realizzato tipo una sorta di fune sì ok eccola qua sarebbe fantastico se riuscissimo a fare tipo un'arma ecco qui questa non è male secondo me ok l'ho realizzata perfetto qua questo è arco e freccia sì no mi manca il woofieber ok allora woofieber non so neanche più come si ok quindi penso che adesso lo possiamo realizzare no che mi manca mi manca il nut foods non so cosa sia sinceramente vabbè a questo punto quindi posso anche armare diversamente inventario ok equipaggia equipaggia che c'è in mano fa abbastanza schifo però vabbè adesso adesso almeno sono un po' questa è acqua però eh ma questa la possiamo bere questa acqua che dici questa cosa non so cosa sia questa è acqua sì bevi ancora adesso abbiamo fame mamma mia ho la fame a zero praticamente che cosa c'è qua questo è un fungo mica possiamo mangiare i funghi adesso eh no ma io non credo che possa mangiarmi un fungo che ci mangia no 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 ancora adesso sono armato però non è che ho sbagliato aspetta aspetta prova sa 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 prova mannaccia ok adesso mi riprendo lo zaino again figlia figlia tutto armiamoci un attimo e poi questo sembrava quello migliore vabbè e lo posso anche riparare sì che ti serve quella pietra penso sì per riparare vabbè io non so se ci combina attaccarla ancora a questo eccolo qua io penso che se l'attacco muo eh allora vediamo se riesco a mangiare qualcosa che ci possiamo mangiare ma questo non si può ma consuma lo puoi mangiare veramente il fungo vabbè abbiamo mangiato il fungo io pensavo che tipo magari con questo riesco a disarmarlo un po' più forte ok ma quanti ce ne oh ce ne sono due qua no 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 non mi sembra proprio il caso di attaccare già sai già riesco costruisci un rifugio penso eh questo è un guaio allora facciamo così prima cosa eh abbiamo che possiamo questa è una base questa è una base ah vedi posso realizzare una base con una porta con la corteccia ah ok quindi facciamo così questo abbiamo già craftato per cui lo posso riparare sì perfetto no 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 facciamo rifugio allora di te ok no aspettate ci siamo Sì Ok Ok Perfetto È pieno Quindi adesso devo realizzare un rifugio Magari il rifugio non lo costruiamo dove stanno i ragni Sennò schiattiamo Però dove sta l'acqua non sarebbe una cattiva idea Lo faccio qua? No io lo farei dove sta il Il coso laser che dite Dove sta il coso laser Mappa Giustamente è questo Macchina misteriosa sì Riesco a mettere tipo un segnale No Allora zoom zoom close No Centra naviga No non si può mettere Quindi penso che stia di qua No di qua Lo vado a realizzare vicino a una macchina misteriosa Vedi Perché secondo me la macchina misteriosa Poi la dovremmo attivare Tra l'altro poi qua ci sono pure le formiche Quindi Le formiche sono abbastanza attaccabili Dove costruire? Proprio qua sopra Sì ma che vada Prendiamo fuoco no? Input Avrei che devo premere input Lo metto proprio qua così Allora vediamo se riesco a realizzare qualcosa O meglio Da qua Questa è una snack? Che schifo Allora Mura Non me lo fa mettere qua Allora Con X Ah qua me lo fa mettere invece Sì Forse qua Ok qua forse posso farlo qua Allora facciamo così Porta però mi serve qualche altra cosa Il legno quello Facciamo il muro dai Ok Troppo grande se no Aspetta un attimo Oh mamma mia Ok Abbiamo fatto l'angolo cottura Pure dentro Qua vieni Mamma mia Sì vabbè Però così è troppo piccola la casa Io non è che voglio un attimo Però Ci abbiamo tutti questi problemi Sì Vabbè Ho fatto tipo così Ok Dai neanche c'è tutto lo spazio ancora Questo è quello che abbiamo realizzato Quindi ci vuole parecchio da fare ancora Sì va bene Addirittura stai schiattando Ma ma c'hai un cuore proprio Alla tua età Saremo stati molto più forti Ah forse devi bere no Vendi 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 Ok Quindi per questo che mi serve Ok Dai Ancora devi costruire Il problema è se avessi avuto la possibilità Di poter realizzare qualcosa da su Tra l'altro sta facendo anche notte Te lo voglio dire Ma guarda quando ti becco dopo Ok Inventario pieno Mamma mia Ma che c'hai l'inventario Dei buffi c'hai Avanti No niente ancora Questo lo posso prendere Dai Ok Mi manca ancora qualche altra cosa Dai che ce la fai Tra un poco fa notte Dovremmo mancazionare Oh qua ce ne sono un sacco Inventario pieno Ok Ok Il nostro Ci siamo che dite Mi manca giusto la porta Mamma mia Abbiamo fatto tipo Una stanzetta proprio Allora la porta Io non credo che la possa realizzare La porta Ok Aspetta un attimo Che Quanto ti schifo Mamma mia Ok Però mi serve questa parte qua Che non c'ho ancora Dovrei chiuderla penso anche Secondo me Non mi serve ancora Un'altra cosa da fare Quindi facciamo Un altro muro Ok E la costruisco così? Ho sbagliato Aspetta Sì Ho sbagliato Se la costruisco così Devo mettere ancora Questa parte Questa per chiudere Mamma abbiamo fatto Una casa Abbastanza bruttina Se la sto mettendo tutta Io non so Devo pure mangiare Assolutamente qualcosa Non ho capito Qual è che devo fare O devo lanciare qualcosa Ma non Ma non riesco a lanciarla qua No Manca assadie Riusciamo Allora sono in trappola qua Aspetta un attimo E' questa Guarda è questa Secondo me Dai Ok Eccola qua E allora devo Devo ingarrare La cosa giusta Praticamente Maledizione Che sta succedendo lì? Aspetta però Forse ho capito una cosa Fammi rompere questo Forse riesco a far passare il raggio Eccolo qua Ah vedi ok Ora ho capito tutto Mi da problemi soltanto Mi da problemi soltanto Quello quindi Questa do becca Questa do becca Eh questo no Questo è pure Oh mamma mia Speriamo che non sale Qua su Non sale vero? No no Non sale E allora qua Sono protetto qua Forse protetto Perché questo non funziona Non lo so Eh ma io Il raggio Lassopra Ci deve essere Qualcosa Che me lo blocca Forse Secondo me si Allora target Attiva Non si può fare niente Qua C'era Quello sta là Mannaccia Purtroppo non posso scendere Se scende Quello mi ammazza Ho capito Ho capito Ho capito Che stai là Perché mi vuoi fregare Se ho caduto Perché io non credo Che ci sia qualcosa Che blocca Allora eh Anche perché c'è pure La nebbia Anzi Una mazza A quest'ora Secondo me La nebbia Perché se passa Ce la faccio Facciamo passare Un po' di tempo Allora vediamo Se riusciamo A trovare Qualche altra cosa Allora facciamo così Guardate Mi dirigo Verso la direzione Dove C'è il blocco Andiamo di qua Andiamo di capire Se riesco a trovare qualcosa Ma che parlo Lo prendiamo E ce la conserviamo Perché il raggio laser Mi dice di là Adesso andando di notte In un posto bruttissimo Con una musica bruttissima Che cos'è questo? Pensavo fosse L'occhio di un Di qualche cosa Occhio di una vipera Allora Raggio laser Raggio laser Allora Eccolo là Ah vedi Il punta di là E là sopra Ma io non ci arriverò mai Alla sopra Come ci arriviamo Alla sopra Ma che roba ci stava Chissà perché Non funziona bene Ah vedi Roba Ok Ah questa è un'altra cosa Questa Sì Ok Fai piano con cautela Perché non so se Qua c'è cosa Aia Aia Che vi state mangiando Che sta succedendo Allerta Perché C'è qualcosa Che mi vuole attaccare C'è qualcosa Che non è Sì Ah vedi Quindi questo è il fido Che non va bene Che Che mi vuole attaccare Maledetti Maledetti Ok L'ho ammazzato uno Eh Sta fa Vedete che si riesca A ammazzare questi cosi Ok Forse li tolgo da vicino al filo E poi funziona Maledetti Stifoso Devo beccare Da questo Forse adesso Il raggio funziona Dici Dove stai Dove stai No No Mi ha beccato la fine Porca la paletta Vabbè Dobbiamo assolutamente Ritornare Gioco molto divertente E particolare Secondo voi Era lì che dovevamo Recuperare la roba Secondo me Secondo me Sì Vabbè Ci vediamo Stavo al prossimo video Vai Ciao a tutti Grazie a tutti